Tragico schianto di pomeriggio sulla strada statale 166 degli Erburni. A perdere la vita Nicola Pacifico, chef 31enne originario di Agropoli ma residente in località Fonte a Roccadaspide. Il giovane ha perso il controllo della sua moto dopo essersi scontrato con una Ford Focus in località Vuccolo Maiorano. L'impatto, nonostante il casco, è stato fatale per il 31enne, deceduto sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi della Croce Rossa e della Croce Azzurra che hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Capaccio Scalo e Roccadaspide per i rilievi del caso ed il magistrato di turno presso la procura di Salerno che ha disposto l'esame autoptico da effettuarsi nelle prossime ore. Il 31enne, molto conosciuto in zona, svolgeva la professione di chef in un ristorante di Agropoli ed era insegnante presso l'istituto alberghiero di Capaccio Pestum.